È un'auto che ha un cuore sportivo, 120 cavalli di potenza che spingono la macchina a una velocità massima di 195 km orario e la accelerano da 0 a 100 in 10 secondi e 3, ma ha anche un cuore ecologico che permette di risparmiare molto. Pensate, nel ciclo integrato si arriva a fare 450 km, una grande autonomia, con due pieni si fanno più di 1000 km e soprattutto un ridotto impatto ambientale. La Giulietta 1400 GPL Turbo è una vera Alfa, infatti ha un cambio a 6 margine, un rapporto per ogni occasione e in più si avvale nell'innovativo sistema Alfa DNA, dove D sta per Dynamic, lo selezionate quando vi volete divertire davvero, N per Normal, se invece preferite una guida normale, A per All Weather, quando invece le condizioni meteo non sono le più favorevoli. Al prossimo episodio